Ritorna questa sera alle 21, zona calcio estate su Tele Libertà, siamo in concomitanza con gli Azzurri perché l'Italia questa sera debutta all'Europeo di Francia contro il Belgio. Noi vi proponiamo l'intervista a due campioni piacentini, arrivano entrambi dalla Valdarda, sono Davide Bertoncini e Pietro Visconti, giocano rispettivamente nel Frosinone e nel Lavellino. Poi ancora un'altra intervista ad un giovane talento piacentino a Giacomo Zecca, 19 anni, in forza alla primavera del Sassuolo e poi vi proponiamo la rubrica 11 metri che questa sera vedrà protagonista Andrea Raffetti nel Vigolzone, nell'ultima stagione e poi ancora l'aneddoto di Gianni Rubini, questo e tanto altro stasera alle 21 a zona calcio estate.